Si ritorna a parlare di Parco Aldomoro, a riaccendere i riflettori, il consigliere comunale e presidente della Commissione Consigliare Cultura, Piero Adamo, con una proposta che possa ottimizzare la fruizione di questo spazio. Per Adamo l'immensa struttura potrebbe essere affidata al centro Elen Keller, specializzato nell'addestramento dei cani guida per ciechi, una realtà importantissima a livello regionale, non solo. Un coinvolgimento, secondo Adamo, che non solo permetterebbe al Comune di demandare a terzi i costi di cura e di gestione di parte del Parco, ma consentirebbe al centro Elen Keller di integrarsi maggiormente nel tessuto cittadino, migliorando così l'integrazione delle persone non vedenti e rispondendo a quel criterio di funzione sociale del Parco tanto invocato in questi ultimi mesi. Una nuova proposta che va ad aggiundersi a quella presentata lo scorso venerdì in decima commissione dall'assessore al patrimonio Enzo Cuzzola, che aveva paventato l'ipotesi di trasferire nel Parco un presidio dei vigili urbani. Una proposta totalmente bocciata dal comitato che dallo scorso 10 ottobre, giorno dell'occupazione della struttura, gestisce il Parco e che chiede invece la totale fruizione del bene da parte della cittadinanza.